Dottoressa, continuano le attività intensamente di questa procura e questa volta le indagini si sono concentrate su un mercato che è molto difficile da intercettare, cioè un'attività illecita che richiede delle specializzazioni particolari e anche un'organizzazione particolare, e da parte della procura e da parte dell'organizzazione criminosa. Abbiamo cercato di sviluppare al meglio le attività investigative, di ricostruire in maniera probatoriamente molto molto forte queste attività illecite, perché sono attività che purtroppo generano un mercato, un mercato anche piuttosto ricco, però è un mercato che si fonda su attività predatorie, su attività che tolgono al territorio, alla ricchezza e alla possibilità di sviluppo di questa terra delle componenti fondamentali, tolgono parte della storia. Queste attività illecite sono quelle che dovrebbero procurare maggiore indignazione da parte della collettività tutta, perché questi soggetti rubano pezzi di storia che finiscono altrove, probabilmente a casa di collezionisti, con pezzi forse unici che non vedremo mai. Certamente è un mercato molto ricco, è un mercato che è difficile da intercettare, perché si tratta di attività che si sviluppano come delle vere e proprie reti, in territorio nazionale, in Sicilia, in questo caso, in primo luogo, perché è un territorio ricco di reperti, ovviamente, poi si sviluppano anche altrove e anche all'estero, è un vero e proprio mercato illecito, parallelo, nemmeno parallelo, cioè è un mercato illecito, punto. I maggiori acquirenti, dicevano gli investigatori, si trovano al momento, almeno per quanto riguarda questa indagine, in Germania e in Spagna, ma non sarebbe possibile fare un'operazione internazionale per intercettare questi beni e riportarli a casa? Ma questo, in questo caso, è molto complicato, sono state trovate delle tracce, indubbiamente, che portano a questi paesi, ma certamente vi sono possibilità di sviluppo investigativo, tuttavia miriamo in questo momento soprattutto alla ricostruzione e al contrasto delle attività che siamo riusciti a comprovare su questo territorio. È un'organizzazione che si muoveva in maniera omogenea, radicata sul territorio, composta da soggetti che avevano dei compiti specifici, alcuni dei quali si occupavano di recuperare i mezzi per recarsi sui posti dove scavare, alcuni si occupavano proprio dell'attività di scavo, cosetti tombaroli, altri invece si occupavano dell'attività di commercializzazione, dei reperti delle monete principalmente, che venivano rinvenute e quindi dovevano essere commercializzate, quindi ricevere, beneficiare per il lavoro. Si tratta di una criminalità assolutamente specializzata, conosce molto bene gli oggetti che deve commercializzare. Indubbiamente nell'ambito di questo gruppo organizzato vi era anche colui il quale si occupava di individuare le monete che avevano più valore, lasciando da parte quelle che erano difficili da piazzare. Grazie. Grazie.